Buon pomeriggio, martedì 19 novembre, ben ritrovati con Infostudio. Ad aprile del 2018 erano stati arrestati. Oggi per gli imprenditori Michele e Giuseppe Surace, Andrea Giordano e Carmelo Ficara arriva il giorno del mega sequestro, perché stiamo parlando di beni per oltre 200 milioni di euro che dietro richiesta della procura antimafia di Reggio Calabria, Carabinieri, Guardie di Finanza e Divisione Investigativa Antimafia hanno appunto sottratto ad imprenditori che vengono considerati organici alle cosche da Stefano e Tegano in modo particolare, ma che non disdegnavano di essere al servizio anche di importanti cosche regine, i libri, i labate per esempio. La conferenza stampa si è tenuta a metà mattinata e oltre tutto, ripeto, questi imprenditori erano stati arrestati ad aprile del 2018. Riepiroghiamo qual è la situazione. Guardie di Finanza, Carabinieri e DIA, coordinati dalla procura antimafia di Reggio Calabria, hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni immobili ed immobili per un valore di oltre 200 milioni di euro. In sostanza, l'intero patrimonio riconducibile a quattro imprenditori regini arrestati nell'aprile del 2018 nell'operazione denominata Monopoli e sospettati di appartenenza o contiguità alle cosche Tegano e De Stefano di Reggio Calabria. Si tratta di Michele Surace, 62 anni, e del figlio Giuseppe, 35 anni, di Andrea Francesco Giordano, 68 anni, e di Carmelo Ficara, 63 anni. I quattro imprenditori erano accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio. Già all'epoca degli arresti furono adottati provvedimenti patrimoniali per un valore di circa 50 milioni di euro. I provvedimenti di sequestro, emessi dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, sono stati richiesti dal procuratore aggiunto, Callogero Paci, e dai sostituti procuratori Walter Ignazitto e Stefano Musolino, e hanno riguardato 20 imprese commerciali, soprattutto società idili, fra l'altro proprietarie di ben 172 immobili, le quote societarie di altre 10 imprese, 284 tra fabbricati e terreni, 13 veicoli, conti bancari e rapporti assicurativi. Le indagini sono partite nel febbraio del 2017 e hanno fatto luce su un sistema di interessi che ha permesso agli imprenditori di reinvestire in attività commerciali leciti gli enormi capitali accumulati da due delle più potenti cosche calabresi. Con l'appoggio dei Tegano, ad esempio, Giordano e i Surace possedevano e gestivano l'unica sala bingo di Reggio Calabria e avevano costituito diverse società nel settore di Ile, intestandole a prestanome. Secondo le rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia, Andrea Giordano e Michele Surace sono da molto tempo gli imprenditori di riferimento del boss Giovanni Tegano per il sistema di riciclaggio e reinvestimento di proventi illeciti. Le loro fortune iniziano verso la fine degli anni 90, con la costruzione del complesso residenziale Mary Park, nel quale poi verrà impiantata la sala bingo. Secondo le indagini, il rapporto con la cosca ha fatto impennare vertiginosamente gli affari di Giordano e Surace. Carmelo Ficara avrebbe stretto un patto di ferro con i De Stefano, grazie al quale ha avuto la possibilità di crescere e prosperare economicamente nel settore di Ile, specie nel territorio del quartiere Archie. Ma dalle indagini sono emersi rapporti tra i quattro imprenditori e le cosche di altre zone di Reggio, cioè la Tella, Libri e Labate, a dimostrazione dell'unitarietà delle indrine e della suddivisione scientifica del territorio e degli affari. Giordano, Surace e Ficara erano stati coinvolti anche nelle indagini dell'operazione antindrangheta a Martingala, in cui vennero arrestate 27 persone sequestrate i beni per 119 milioni di euro, soldi frutto di enormi frodi fiscali e riciclaggio, resi possibile grazie ad una spaventosa emissione di fatture per operazioni inesistenti. Negli ultimi due anni e mezzo, grazie ad accertamenti, riscontri ed incroci documentali, è stata fatta una minuziosa ricostruzione di operazioni, acquisizioni, imprese e patrimoni degli indagati e si è risaliti alle fonti illeciti dalle quali provenivano le risorse. Sarebbe stato ucciso a colpi di fucile nell'appezzamento di terreno in cui lavorava da un killer, arrivato probabilmente a bordo di un'auto, Francesco Madera, l'allevatore di 55 anni, ritrovato cadavere da uno dei due suoi figli, ieri sera a Campana, in provincia di Cosenza, incontrada Vaccarizzo per la precisione. A trovare, ripeto, il corpo, è stato il figlio che poi ha allertato i carabinieri, le indagini sono condotte dalla procura di Castrovillari. C'è un particolare che gli investigatori non trascurano. Dieci anni fa, nel 2009, Madera fu coinvolto nelle indagini sull'omicidio di un uomo, Bernardo Rossano, di 32 anni, a seguito di una lite. Per quel delitto Madera ha scontato una pena, era stato condannato, era tornato in libertà. Veniamo alla politica perché adesso, dopo tanto tergiversare, hanno tutti fretta, il Partito Democratico ha scelto Maurizio Talarico come candidato alla presidenza e il candidato del Movimento 5 Stelle ci sarebbe, lo ha fatto, cioè non l'ha fatto capire, l'ho proprio detto, il coordinatore della campagna elettorale del Movimento, Paolo Parentela, il quale ha però aggiunto che il nome che è stato fatto ieri sera al capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, nel corso di un incontro a Roma, è ancora coperto da riservo. A dispetto delle voci, la rappresentanza parlamentare ha mostrato compattezza nell'incontro con Di Maio, ha detto Parentela, il nostro candidato è figura di altissimo profilo su cui convergiamo tutti, in attesa che anche il garante del Movimento condivida le nostre proposte, quindi stiamo parlando di Beppe Grillo, continueremo a concentrarci sul programma, dice Parentela, e a dialogare con le tante espressioni della Calabria che vuole voltare pagina. Ieri nel corso dell'udienza preliminare del processo scaturito dall'inchiesta della Procura di Catanzaro sulla presunta illecita gestione dei fondi riservati al teatro, la Regione Calabria ha fatto sapere che si chiederà di costituirsi parte civile. Le accuse contestate vanno dalla turbata libertà degli incanti riguardo all'assegnazione dei contributi per la realizzazione di iniziative culturali nel 2016 e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di contributi del Fondo Unico per la Cultura del 2017. Nel processo tra gli imputati c'è Adriana Tomann, 61 anni, che è accusata di entrambi i reati commessi sfruttando, sostiene l'accusa, il fatto di essere la compagna del Presidente della Regione Oliverio. E poi Sonia Talarico, 61 anni, dirigente del Dipartimento Turismo. Il critico d'arte Antonio Sicoli, di 71 anni, il coordinatore dell'Avvocatura regionale Gian Claudio Festa. 200 ex percettori di mobilità in deroga, i cosiddetti tirocinanti negli enti locali calabresi, hanno manifestato a Catanzaro per chiedere certezza sul loro futuro, anche perché il loro futuro ha una prospettiva estremamente ristretta fino a questo momento, il 31 dicembre di quest'anno, in ragione di una promessa che la Regione ha fatto, ma poi non ha mantenuto queste le loro parole. Noi sono mesi che inviamo PEC, noi facciamo in continuazione richieste di chiarimenti, delucidazioni, informazioni, sono mesi che c'è il vuoto totale. Siamo venuti il 31 luglio ed eravamo 900 e hanno detto che avrebbero fatto a brevissimo un incontro con il tavolo politico per chiarire quali sono i motivi delle scelte di questo bando così scellerato che ci penalizza tutti. È un atto discriminatorio gravissimo quello che stanno facendo. Noi, appartenenti tutti ad uno stesso bacino, veniamo completamente smembrati, resi disoccupati, declassati, perché veniamo passati di competenza ai servizi sociali, lavori di pubblica utilità. Noi non vogliamo null'altro, non chiedevamo la luna, chiedevamo un percorso come quello paventato da loro stessi nell'accordo del 7 dicembre 2016. L'accordo parlava di orientamento, formazione, perfezionamento e reinserimento nell'ambito lavorativo. Questo non sta avvenendo. La Regione Calabria con i sindacati non hanno rispettato l'accordo quadro dell'anno 2016, quindi noi da ex percettori di mobilità in deroga siamo andati a finire a ex disoccupati percettori di mobilità in deroga. Hanno fatto una grandissima discriminazione per noi. Noi diciamo una cosa, che noi non siamo tirocinanti di Serie B, noi vogliamo quello che hanno avuto gli altri tirocinanti, MIBAC, MIUR e Ufficio Giudiziario hanno avuto il perfezionamento perché l'accordo quadro, che cosa diceva? Che dovevamo fare la formazione, dovevamo fare il perfezionamento e poi essere inseriti nel mondo del lavoro. Invece adesso ci hanno buttati in un bacino di disoccupati. Il sindacato ci deve tutelare. Il sindacato ci ha tutelati fin quando c'era la mobilità in deroga perché il sindacato si prendeva una tariffa mensilmente. Allora ci ha difesi fino a un certo punto. Finito quello, la mobilità che siamo passati in tirocinio, siamo per loro carne venduta. Non si può vivere più così, veramente, dai. Stiamo scherzando, ci sono persone veramente che fanno la fame. 12 mesi, tis, e basta. E poi che facciamo? Ce ne andiamo tutti a casa. Io non parlo tanto per me perché ho 62 anni e quanto prima andrò in pensione, ma c'è gente veramente a 40 anni che non può più andare avanti così. Padre di famiglia, madre di famiglia che hanno 3 o 4 bambini a casa. Ma la regione Calabria si rende conto di questo? Però il 26 se ne devono andare tutti a casa, tutti a zappare, tutti quanti. Perché questo governo non lo vogliamo più. Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per le due persone che occupavano l'appartamento di Cerico in cui si è sviluppato un violento incendio la notte scorsa, nella tarda notte, per causi che ancora sono da accertare. Pensate che per avere ragione delle fiamme i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza hanno dovuto lavorare per 4 ore. Una casa che si sviluppa su due piani, quella in cui si è sviluppato il rogo. A Rogliano la Guardia di Finanza ha denunciato un uomo che vendeva capi d'abbigliamento taroccati, spacciava droga ed era contemporaneamente anche percettore del reddito di cittadinanza. I finanzieri lo hanno visto uscire da un bar di Rogliano con una voluminosa busta di plastica, lo hanno bloccato e controllando la busta hanno trovato capi e accessori contraffatti, poi altri prodotti hanno trovato all'interno del vano bagagli. Perquisendo l'abitazione è stata trovata altra merce, 30 grammi di asci, c'è dai controlli successivi e penso che l'uomo ha chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza. L'Inps li ha erogato da aprile scorso quasi 4 mila euro. E' stato identificato, è un uomo di 75 anni di Catanzaro, l'uomo che ha causato un tamponamento sabato sera a Roccelletta di Borgia che ha provocato il ferimento di una famiglia di 5 persone, per fortuna in maniera non grave si sono ferite queste persone. L'uomo è accusato di omissione di soccorso perché non si è fermato appunto e poi anche di simulazione di reato perché lunedì mattina, per cercare evidentemente di sviare da sé l'attenzione, si era recato in caserma, aveva denunciato il furto dell'auto, ma erano ormai tardi le telecamere infatti della zona in cui l'incidente è avvenuto, lo hanno filmato e quindi inchiodato. Adesso parliamo invece di un viaggio culturale organizzato dall'ENS Calabria, l'ente nazionale sordomuti che ci riguarda anche un po' da vicino. La cultura non può e non deve avere barriere, per nessuno. Parte da questo assunto il viaggio culturale organizzato dall'ente nazionale Sordi, sezione provinciale di Crotone, in collaborazione con l'ENS Consiglio regionale Calabria, che ha portato circa 50 persone sorde, tra soci e dirigenti ENS da ogni parte della regione, in visita nel crotonese alla scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale custodito dal nostro territorio. Grazie all'iniziativa della Biennale Arte Insieme, Cultura e Culture Senza Barriere, il gruppo ha potuto visitare il Museo e il Parco archeologico nazionale di Capocolonna e poi il Museo archeologico nazionale di Crotone con gli immensi tesori che custodiscono. Nel cuore della città poi le persone sorde hanno visitato lo store Magna Grecia Lifestyle Empori Mediterranei, alla scoperta delle più autentiche eccellenze agroalimentari della Calabria e di pregiati esempi di artigianato identitario calabrese. Salvatore Gaetano, editore del gruppo Video Calabria, con cui è stato realizzato uno dei primi progetti di TG Lease e general manager di MGLS che detiene e promuove il brand Magna Grecia Lifestyle insieme a Massimo Tigani Sava, ha illustrato loro l'ambizioso progetto. Ad accogliere il gruppo con una degustazione di prodotti selezionati, c'era anche Anna Riga, responsabile degli store Magna Grecia Lifestyle. L'occasione è stata colta dal presidente regionale ENS Calabria Antonio Miriello e dal presidente provinciale ENS Crotone Vincenzo Basile per sottolineare l'importanza dei servizi fondamentali che le istituzioni devono garantire per consentire l'inclusione sociale delle persone sorde nel pieno rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili. L'iniziativa oggi è incentrata sull'accessibilità museale così come indicato dalla nostra sede centrale ENS di Roma e pertanto come Consiglio regionale e sezioni di Crotone abbiamo organizzato un viaggio culturale alla scoperta delle bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del Museo di Capocolonne di Crotone. Ovviamente oggi l'accessibilità museale è importante perché dà la possibilità a noi sordi di poter accedere ai musei grazie ai servizi di interpretariato in lingua dei segni italiani e grazie anche alle video with a list che realizziamo appunto proprio sul territorio regionale. Proprio all'interno di questa iniziativa abbiamo pensato di venire a trovare appunto il nostro caro amico che è Salvatore Gaetano con cui abbiamo collaborato in passato e siamo venuti a fare vista a questo emporio bellissimo che raccoglie un po' la nostra storia. Abbiamo realizzato sul territorio regionale un progetto che è definito MAPS Musei Accessibili per le Persone Sorde finanziato dal Ministero alle Politiche Sociali grazie al quale abbiamo fatto un corso di formazione anche in tutta Italia e abbiamo formato dei giovani sordi sulle capacità che questi possono avere all'interno dei musei quindi parlo di appunto video guide list che possiamo realizzare proprio con i nostri musei e proprio con le nostre persone sorde. Questi video guide consistono appunto nel realizzare dei video con cui l'interprete segna e traduce proprio quella che è l'esperienza museale rappresenta sicuramente un primo passo verso un'accessibilità totale dei nostri musei. Grazie e benvenuti Era uno degli appuntamenti più attesi della stagione di spettacoli dell'Era della Magna Grecia organizzata dall'Associazione Akam Beethoven a Crotone quello con Laura Morante e Eugenia Costantini che è una delle figlie di Laura Morante che sentirete ma non vedrete perché le interviste Laura Morante le rilascia in voce ma non venendo ripresa per sua espressa scelta. Giuseppe Laratta Antoinette, potresti anche scomodarti quando vedi tua madre, non ti pare? La mamma è entrata così bruscamente che tutte le gocce di cristallo del lampadario si sono messe a tintinnare come sono anni Mi si pianta davanti con le braccia concerte Io faccio finta di continuare a leggere Hai il di dietro incollato la sedia? Dov'è Miss Betty? Miss? Venga qui! Madre e figlia sul palcoscenico e nella vita reale Le attrici Laura Morante ed Eugenia Costantini hanno portato in scena a Crotone il ballo tratto dal romanzo di Irene Nemiroschi reading musicale all'interno della seconda edizione della stagione concertistica L'Era della Magna Grecia 2019 organizzata dalla società Beethoven-Akama al Teatro Apollo La storia, accompagnata dai brani suonati dalla pianista Francesca Giovannelli disegna un ritratto sagace e beffardo della borghesia francese I CAMF, ricchi, arroganti e altezzosi decidono di organizzare una festa da ballo alla quale invitano tutte le persone che contano Antoinette, la figlia 14enne delusa e arrabbiata per la decisione della madre di escluderla dall'evento decide di vendicarsi Dopo aver consegnato l'invito solamente alla sua insegnante di pianoforte l'unica che di fatti si presenterà decide di non spedire gli altri La sera della festa i CAMF attendono inutilmente l'arrivo degli ospiti e, poiché non hanno nessuna esperienza della vita sociale non riescono a spiegarsi questa strana rinuncia da parte di tutti gli invitati Abbiamo in qualche modo trasformato il lungo racconto di Irene Nemirovski in una specie di due monologhi che ogni tanto si intersecano si dialogano, diciamo è una lettura a due voci con la voce della madre e la voce della figlia la voce di Madame CAMF e la voce della ragazza Si continua con il binomio musica e teatro anche questa sera vediamo alle sue spalle un pianoforte a coda Eh sì, come dicevo, noi abbiamo creato questa sinergia noi stiamo contribuendo a sviluppare questa forma perché innanzitutto tenete conto che l'associazione è nata come musica quindi è chiaro che il binomio, l'innesto è visto sempre sotto la forma più classica possibile e sotto la forma più elegante possibile Ed eccoci arrivati all'appuntamento con io, Sergio Calabria Grazie a tutti Uno dei servizi che vi proponiamo in questa puntata di Oscelgo Calabria riguarda il morsello questo piatto tipico catanzarese ma definirlo piatto tipico è poco Il morsello è l'anima dei catanzaresi è una tradizione così radicata che è diventato un vero e proprio marcatore identitario Non tutti sanno però che il morsello è legato soprattutto ad un tipo particolare di pane ecco perché siamo all'interno del panificio artigianale il fornaretto di Catanzaro Lido e ci siamo in compagnia del macellaio e ristoratore Tonino Zangari lo conoscete, è un volto che è già apparso nelle nostre trasmissioni perché è il caso di un macellaio di grande tradizione ed esperienza che ha deciso di trasformare la sua macelleria in una braceria e ristorante ma non siamo qui per parlare della sua cucina ma per appunto spiegarvi questo piatto particolarissimo che è il morsello ma Tonino Zangari in attesa che arrivi il fornaio sapete che nei panifici si lavora soprattutto di notte si lavora alle prime ore dell'alba però vogliamo che Tonino ci dica perché questa pitta che è un pane particolare che si produce soltanto a Catanzaro nel Catanzarese è così importante per il morsello perché un pane è proprio adatto, è fatto positivamente per il morsello e quindi se non c'è questa pitta, si chiama pitta non è, fa parte del morsello Tonino è vero che la tradizione del morsello vuole che il morsello si mangi in un pezzo di questa pitta ora le nostre telecamere lo mostreranno più tardi si può mangiare all'interno della pitta tagliata nella parte centrale nella parte mediana oppure anche si dice al piatto però utilizzando sempre la pitta si mangia esclusivamente con la pitta perché il morsello è nato così questa pitta è nata proprio per il morsello quindi se non c'è la pitta il morsello non si gusta così bene come il pane Tonino, la pitta deve essere fresca ogni mattina, vero? ti consegnano questo pane? fatto tutte le mattine perché se si indurisce non è adatta per il morsello perché la pitta deve essere proprio morbida, fresca che si devono ungere le due parti laterali pure nel morsello questo lo faremo vedere poi nella tua cucina e adesso ci spostiamo per vedere che forma ha questo pane questa pitta appena uscita dal forno il telegiornale termina qui per il momento ma ci rivediamo alle 19 e 15 grazie per averci seguito ricordate per stare aggiornati tgcal24.it a dopo grazie per aver guardato il video